Conto alla rovescia ormai gli sgoccioli per Rudy Michelini in vista dell'avvio del campionato italiano Rally 2020, il portacolori della scuderia Movisport, atteso alla prima tricolore del 24 luglio, sarà parte integrante della Coppa Città di Lucca, contesto che lo ha visto vincitore in ben nove occasioni. L'impegno sarà affrontato, vista la vicinanza con l'appuntamento inaugurale della massima serie, il Rally di Roma Capitale, dando priorità all'aspetto tecnico, cercando confermene le soluzioni che verranno adottate in concerto con il team PR Racing sulla Volkswagen Polo R5, dopo ben otto mesi di inattività agonistica. Ad affiancare il driver lucchese, nell'appuntamento casalingo, sarà Michele Perna, copilota chiamata ad un impegno stagionale rivolto alla serie tricolore asfalto. Per Rudy Michelini, la Coppa Città di Lucca sarà l'occasione di saggiare la vettura tedesca, dopo le due precedenti esperienze della stagione scorsa, i Rally Città di Pistoia e il Trofeo Maremma, entrambe archiviate sul gradino più alto del polio. Nove vittorie assolute su 17 partecipazioni. Rudy Michelini, sulle strade della Coppa Città di Lucca, sarà l'uomo da battere, più precisamente lo è dalla stagione 2007, quando si impose affiancato alle note da Massimo Concaro. Poi tante vittorie con il fide storico navigatore Michele Perna, fino allo scorso anno, nel 2019, quando con Luca Spinetti trionfò sulla scoda Fabia R5. Rudy cerca la desima e la sensazione giusta per un CIR 2020 da protagonista.